Ben trovati in informazione di TRMH24, parlando di caroenergia ma anche con una notizia di pubblica utilità perché l'antitrust ha lanciato un messaggio ai consumatori, segnalateci eventuali modifiche unilaterali ai contratti di energia e gas. Alcune aziende fornitrici di energie elettriche e gas stanno modificando in maniera arbitraria e unilaterale i contratti agli utenti pugliesi, modifiche che vanno in contrasto con quanto disposto dal decreto aiuti bis dell'agosto scorso e quanto denunciato delle associazioni dei consumatori che per fronteggiare questo fenomeno chiedono agli utenti pugliesi di inviare eventuali segnalazioni con allegate le prove documentali di aver ricevuto una comunicazione di modifica unilaterale del contratto dal proprio fornitore. Le associazioni prevederanno poi ad inviare un esposto all'antitrust che rappresenti un ausilio concreto per le decisioni finali dell'autorità garante della concorrenza del mercato. L'antitrust sta lavorando a favore degli utenti delle compagnie di energia e gas che hanno cercato di aggirare il decreto legge di agosto che tendeva a bloccare i prezzi delle bollette fino al 30 aprile 2023. Le sei associazioni dei consumatori si sono unite per cercare di dare, fornire supporto all'antitrust dandogli materiale probatorio per comprovare le condotte illegittime delle aziende di energia e gas che hanno cercato di andare a modificare unilateralmente le condizioni economiche dei contratti. Per questo noi chiediamo a tutti gli utenti pugliesi di inviare presso le sedi delle associazioni delle segnalazioni rispetto alle quali ci siano però prove documentali del fatto che la loro azienda ha provveduto a cambiare i termini del contratto peggiorandoli. E dopo questo argomento che raccoglie l'attenzione in particolare dei consumatori voltiamo pagina e parliamo di un'iniziativa della regione Puglia, Test Rapid, in particolare in aeroporto per chi arriva dalla Cina, la decisione è stata annunciata dall'assessore regionale alla salute. Test rapidi in aeroporto per chi arriva dalla Cina, decisione annunciata dall'assessore alla salute di regione Puglia Rocco Palese che ha previsto un'ulteriore barriera di controllo e sicurezza considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese. In accordo così con l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre scorso ha ritenuto necessario applicare le direttive anche in Puglia per evitare il pericolo di nuove varianti di SARS-CoV-2 nel territorio pugliese. Pertanto fino al 31 gennaio 2023 per le persone che dalla Cina fanno ingresso negli aeroporti pugliesi sono previste attività di testing e contact tracing rese possibili grazie alla collaborazione tra aeroporti di Puglia, Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie locali insieme agli uffici di sanità marittima. È disposto quindi obbligo di presentazione dell'attestato di esito negativo del test eseguito nelle 72 ore precedenti per i test molecolari e nelle 48 ore precedenti per i test antigenici rapidi. Obbligo di sottoporsi al test rapido in aeroporto o entro le 48 ore presso l'ASL di riferimento. In caso di esito positivo del test rapido è obbligatorio sottoporsi all'isolamento in un determinato domicilio e all'esecuzione di un test così molecolare. Al termine del periodo di isolamento è obbligatorio all'esecuzione del test antigenico rapido o molecolare per accertare la guarigione. Le direzioni generali e i dipartimenti di prevenzione delle ASL hanno ricevuto indicazioni per organizzare e coordinare le attività di testing, di contact tracing e per il conferimento dei tamponi molecolari ai laboratori di riferimento. Viene però raccomandata l'utilizzo continuo dei dispositivi di protezione individuale negli aeroporti e nei luoghi che ha il chiuso in tutte le circostanze che non consentano il distanziamento interpersonale. È stato invece inaugurato oggi a Melfi un nuovo padiglione di ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Melfi il quale ospiterà il servizio cassa, la risonanza magnetica, la sala prelievi, il gruppo operatorio e aree di degenza e varia intensità di assistenza. La realizzazione del padiglione nella città federiciana si inserisce in una più ampia e poterosa opera di ammodernamento del presidio ospedaliero destinatario di ulteriori e rilevanti interventi infrastrutturali nell'ambito dei finanziamenti e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Erano presenti all'evento il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, il vicepresidente dell'Aggiunta e assessore alla salute Francesco Fanelli, il sindaco di Melfi Giuseppe Maione, il vescovo di Melfi Rapolle Venosa Monsignor Ciro Fanelli e il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza Giuseppe Spera. Certo, quando si inaugura una struttura medica ospedaliera è sicuramente un momento importante. Un momento importante per la sanità lucana ma soprattutto un momento importante per la popolazione del Vulture Melfesi che vede realizzata un'opera per cui sono stati impegnati già 6 milioni. Altri 11 milioni verranno utilizzati col PNRR per fare una nuova struttura. Abbiamo visitato 4 nuove sale operatorie che entreranno in funzione a brevissimo. Reparti di degenza, possibilità di prelievi, la diversificazione delle entrate, del pronto soccorso dall'entrata per l'ospedale. Un presidio fondamentale non solo per la Basilicata ma un presidio anche di confine, quindi a modernamento tecnologico, a modernamento strutturale per cui diamo anche dignità alle nostre strutture, dignità ai nostri pazienti, dignità ai nostri operatori sanitari chiaramente nell'ottica di offrire servizi sempre di maggiore qualità. Il primo tassello perché il programma prevede poi la realizzazione di un nuovo padiglione una volta svuotato grazie a questo che stiamo inaugurando e quindi il riammodernamento di tutto l'ospedale. Amatera nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione. Nuova riunione del Consiglio Comunale Amatera tra i punti principali discussi, l'aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025. Si tratta degli atti politici più importanti per la programmazione e l'utilizzo delle risorse pubbliche. Con 17 voti favorevoli e 14 contrari, il DUP è stato approvato. Contrario Fratelli d'Italia che non ha contestato la regolarità formale ma le scelte politiche. Ci troviamo a distanza di sette mesi, ha detto il consigliere Toto, con un bilancio privo di idee, lontano da novità, vuoto nei contenuti senza il confronto con la città. Nessuna novità sul parco tematico della storia dell'uomo, ancora oggi non fruibile così come alcune chiese rupestri. Nulla sappiamo dell'osservatorio ambientale. Che fine hanno fatto, ha chiesto Toto, gli 80.000 euro stanziati per l'indagine epidemiologica, nulla anche sull'eliporto, collaudato a maggio 2021, oggi in stato di abbandono e degrado. Che fine ha fatto il nuovo regolamento sull'arredo urbano nei rioni Sassi? La maggioranza perde un pezzo alla volta, si sta sfilacciando l'adesione al gruppo misto di Iosca. È un segno di debolezza di questa maggioranza, siamo stanchi di non avere risposte. Contrario, anche il consigliere Pasquale Doria. Sono deluso da questo documento programmatico, soprattutto per la mancanza di visione. Un film già visto, molto copia e incolla. Perplessità espresse sul futuro dell'ex stabilimento Barilla, su cui non sono chiare le intenzioni dell'amministrazione. Sull'organico, nel palazzo di Via Moro, c'è una differenza in negativo di 146 unità, su 398 unità previste. Maggioranza amorfa e silente, evidenziato la consigliera Tosti, denunciando mancanza di trasparenza, condivisione e corretta amministrazione. Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato illustrato dall'assessore Colella. Inevitabile il condizionamento di eventi straordinari e imprevedibili, in questo caso della guerra in Ucraina, con aumenti incontrollati di luce e gas. Il bilancio è stato costruito per evitare gli effetti del caro energia. Il valore è pari a oltre 86 milioni di euro per il primo anno, di cui oltre 62 milioni relativi alla spesa corrente e 24 milioni destinati alla spesa in conto capitale. Nel 2023 si prevedono entrate per 64 milioni di euro, con un aumento del 4% rispetto al 2022 e un ritorno ai valori normali del 2019. Aumenta anche la previsione di spesa sulla missione turismo, con un più 5% per la maggiore entrata prevista dalla tassa di soggiorno, che passa da 800 mila euro del 2022 a 1 milione e 400 mila euro, quasi i valori massimi raggiunti nel 2019. Previsto anche un aumento importante del 27% di previsione di spesa, che passa da 9 milioni del 2022 a 12 milioni nel 2023. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, aumento della spesa in investimenti si passa da oltre 12 milioni a 24 milioni del 2023, finanziati quasi totalmente da contributi statali ed europei. Sulla tariffa Tari, l'assessore Colella ha assicurato che l'importo per il 2023 sarà identico a quello del 2022. Prima della votazione ha preso la parola il sindaco Bennardi, esprimendo soddisfazione per il lavoro fatto. I numeri parlano chiaramente, un lavoro sinergico degli uffici, abbiamo autorizzato e finanziato il piano del verde, che ha caratterizzato il bilancio dell'anno scorso. Per quest'anno particolare attenzione sarà destinata ai più fragili, alle politiche per la famiglia e all'afficientamento energetico. Il bilancio di previsione è stato approvato con 17 voti favorevoli e 12 contrari. La Puglia intanto si organizza per festeggiare al meglio il Capodanno. I comuni capoluogo hanno presentato una serie di iniziative nella sede della Regione Puglia. Tutte le province pugliesi si preparano a vivere un Capodanno di festa. I comuni capoluogo, nonostante le casse pubbliche sempre più in difficoltà, lo faranno grazie al sostegno della Regione Puglia, che, attraverso Puglia Promozione, ha contribuito ad allestire un programma ricco di eventi per tutti i pugliesi. Tanti gli artisti, la maggior parte dei quali locali, che lavoreranno nella notte del 31, ma non solo. Tante cose che i comuni non riescono a fare vengono fatte con la collaborazione con la Regione Puglia, che finanzia tutto. È uno sforzo gigantesco, perché purtroppo la finanza dei comuni è stata distrutta ed è stato reso impossibile ai comuni persino organizzare una festa di Capodanno. Persino la città di Bari non sarebbe in grado di farlo, perché la sua finanza non glielo consente. La Regione Puglia e Puglia Promozione promuove queste belle iniziative, sono coinvolte tutte le città capoluogo. Speriamo che sia una notte di festa e di augurio per un 2023 sempre migliore. C'è una condivisione strategico-politica, che è quella proprio della città turistica, quale Bari, che ha sempre di più questa vocazione a metà culturale. Noi festeggeremo l'1, non faremo il 31, facciamo un'iniziativa molto trasversale con l'orchestra italiana fondata da Renzo Arbore, presso l'arena della Villa Peripato a Taranto. Il Capodanno sarà un Capodanno dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione di un nuovo spazio cittadino nel centro della città, che è Piazza Mercato, con quattro serate dedicate alla musica e al divertimento. Spostiamo anche un'edizione a quella dei fuochi pirotecnici che facevamo sempre d'estate, la faremo chiaramente il 31. Il 31 ci vedremo tutti quanti in piazza con i nostri artisti salentini maggiormente rappresentativi. E se qualcuno ci chiederà, ma state spendendo dei soldi per far festa a Capodanno? La risposta che dovete dare è che il PIL della Puglia oggi è in trend il doppio di quello dell'Italia, perché questo modello crea economia. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.